signori bentornati da eccelso in questo nuovissimo video video di devasto di sfogo bentornati camerata bentornati comunisti non sul calcio su niente di tutto ciò uscirà oggi domani vediamo di fare il video su agostini ma oggi devo far uscire questo video perché per chi non lo sapesse come avete detto dal titolo io sono anche un grande appassionato grande appassionato dio ho sempre seguito comunque la mondo delle moto moto formula 1 io sono sempre stato più per il team formula 1 devo ammettere che l'anno in cui Valentino Rossi poi perse il mondiale all'ultima gara quando lo penalizzarono markets quell'anno lì l'avevo seguito anche la moto gp veramente in modo assiduo e quest'anno sto ho seguito anche in questi anni molto la formula 1 mi è sempre piaciuta più la formula 1 anche se obiettivamente gli anni scorsi è stata in alcuni periodi veramente noiosissima e inguardabile alcune gare ci sono delle gare completamente anacronistiche insomma è monaco è un gran premio che va abolito cioè non è pensabile un gran premio del genere ma parlando della gara di ieri io ripeto io sto diventando un tuttologo io vi posso venire qui adesso a parlarvi anche del basket italiano noi per gli europei di basket faremo video va bene noi parliamo di basket di calcio di moto di formula noi parliamo di tutto di vita di ragazze di devastanze sociali noi parliamo di tutto questo canale veramente uno sfogatoio totale per tutti voi io mi devo sfogare scusatemi ma ieri veramente io allora io sono un fanboy di leclerc devastante quindi ve lo ammetto vi faccio questa premessa è un ragazzo che mi piace tantissimo secondo me non è assolutamente meno forte di verstappen anzi io ho qualche dubbio e verstappen mi sta altamente sulle palle poi vi spiego anche perché comunque ieri veramente ma gara di silveston si chiama silveston silveston vabbè ho sempre avuto silveston a londra comunque in inghilterra dove era a fare questa a fare il gran premio gara che comunque è stata condizionata nuovamente da strategie più che discutibili di una di una scuderia gestita 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 col culo cioè questa non c'è la macchina che secondo me alcuni tracciati è più forte della della red bull in altri uguale in altri leggermente meno forte comunque un mondiale che ti giochi alla fine su scelte e su cose tolto che a monaco penso che sia l'unica scuderia capace di far partire un pilota primo e farlo arrivare quarto cioè che i nostri che non c'è veramente veramente andassi io probabilmente fare meno danni e all'occhio di tutti che stanno sbagliando tutto cioè ripeto soprattutto nel gran premio di monaco lì proprio è evidente penso non ci siano precedenti o comunque se ci sono erano sempre per roi della della scuderia che una parte una macchina che parte prima a monaco arriva poi quarta cioè nel senso voglio dire quello quello è un tutto dire quello è un tutto dire ieri imbarazzanti ieri imbarazzanti allora io poi sono sempre per il lasciar battagliare e quant'altro però a un certo punto bisogna anche capire le priorità e bisogna capire che in un comunque in questi gran premi se le due macchine sono dello stesso motore e quant'altro gomme hanno gli stessi giri i posti dove si può superare non sono tantissimi il pilota davanti spesso fa da tappo per quello dietro se quello dietro gli è sotto il secondo anche perché poi avvicinarsi in modo prepotente non è mai non è mai troppo troppo semplice quindi leclerc nella prima parte di gara ha perso una quantità di tempo allucinante dietro dietro a sainz pure con con la rotta pure con la rotta perché perez l'aveva stretto nelle nelle prime cos'era il primo giro quando sono ripartiti madonna grazie a dio tra l'altro sono vivi quelli che hanno fatto l'incidente ieri perché mamma mia che l'incidentazzo però voglio dire ma tolto questo che la partita di tempo però posso capire li fai battagliare quant'altro anche se secondo me sainz ha dimostrato di essere un mediocre cioè mi dispiace perché guardate sainz alla toro rosso per chi segue da un po alla toro rosso non era tanto più scarso di verstappen anzi era era lì lì se la giocava mi sembrava un pilota molto talentuoso ad oggi dico con fermezza che sainz è un mediocre cioè anche lì all'inizio emilton quando no verstappen quando proprio inizio gara era dietro a quando ancora non aveva avuto la foratura era dietro a sainz quando era dietro a sainz sainz tempo un giro ha fatto quella cazzata è andato lungo l'ha fatto passare cioè è un pilota obiettivamente che non ha la classe il talento di leclerc quindi se tu ferrari vuoi dopo più di dieci anni quanti anni sono 13 tornare a vincere un mondiale che per una scuderia per come la ferrari col suo veramente qua parliamo di storia importante quando uno pensa alla formula uno pensa alla ferrari un po come un po come moto gp quando si pensava si pensava a valentino rossi perché lui ha forgiato una scuderia su se stesso però tu pensi alla ferrari pensi anche alla vittoria del mondiale quindi ma poi come e quindi questo è l'analisi di inizio gara ma poi mi viene da dire dopo ma come cazzo fai a far fermare sainz per dargli il contentino e farlo vincere e non leclerc io onestamente avrei provato un doppio pit stop poi magari con tutte le complicazioni del caso ma in caso avessi dovuto scegliere tra i due mi dispiace ma deve essere chiaro deve essere chiaro perché in queste situazioni la red bull questa gara la vinceva dieci volte deve essere chiaro leclerc si ferma ma sainz va avanti sainz si difenderà con le gomme hard ma poi sainz è un pilota di quelli che cioè voglio dire abbastanza inutile ma aspettate nel senso che è un pilota che si va bene costante riesce magari a fare qualche però fa troppi errori primo e secondo è un pilota che comunque cioè abbastanza inutile cioè il sorpasso te lo fa i box più che più che in gara leclerc invece è uno che veramente ieri i ragazzi con le hard ha fatto ancora un miracolo ad arrivare quarto ma ha fatto delle battaglie allucinanti stato allora a livello da vedere così una delle gare più belle che abbiamo visto in formula 1 chiaro è che da tifoso io non mi definisco neanche tifoso della ferrari sinceramente perché io sono tifoso di leclerc in questo momento da qualche anno a questa parte io ho riniziato assiduamente a seguire da quando è entrato leclerc nel team però voglio dire cioè qua parliamoci chiaro ce lo stanno sabotando praticamente lo stanno sabotando leclerc era primo e tu non l'hai fatto fermare l'hai fatto ripartire con la gomma dura con 35 giri sopra gli altri avevano una soft nuova cioè ma queste cose veramente non devono succedere non devono succedere anche perché crei dei precedenti spiacevoli che poi sono difficili da gestire perché figuratevi adesso cioè veramente ragazzi se il prossimo gran premio che non so dove sia ma se di nuovo fanno una roba del genere per favorire il compagno quant'altro leclerc è la prima guida appunto poi guardate e finisco binotto quel dito lì così alzato che gli vai con ma che cazzo fai ma metti di sto dito per il culo su per il culo da veramente scusatemi a volgarità ma ogni tanto ci vuole cioè ma cos'è sto dito sto dito così ma ma sto dito a fare cosa mi chiede dovrebbe prendere a schiafi dovrebbe prendere che veramente gli state facendo perdere un mondiale che è suo cioè allora Verstappen e poi vi dico perché mi sta antipatico e suo perché primo secondo me singolarmente superiore a Verstappen secondo lo dimostrano anche le qualifiche dove la dove la scuderia non influisce più di tanto anche se pure pure nelle qualifiche ai tempi a monaco non so se vi ricordate non era entrato manco nel q2 per colpa di sti pirloni però Verstappen secondo me è un pilota veramente sicuramente forte sicuramente forte ma antipatico io lo trovo di un antipatico e poi come ha vinto il mondiale l'anno scorso ragazzi veramente stendiamo un velo pietoso vi ringrazio per la visione spero che sia piaciuto adesso portiamo anche golf va bene vi piacciono i golf io non l'ho mai visto però ci improvvisiamo bacione ciao a tutti ragazzi